In casa Ranger si festeggia il 18esimo compleanno di Vincenzo Ponte, 5 partite e 5 vittorie. Allora come ti trovi in questo gruppo? Innanzitutto auguri e dove pensi possa arrivare questa squadra? Buonasera, innanzitutto grazie per gli auguri. Poi è un gruppo speciale, è come se fosse una famiglia ormai. Ci vogliamo bene tra di noi e questo è l'importante. Abbiamo visto oggi un Montegiordano che vi ha fatto sudare le classiche sette camicie. Solo 1-0, diciamo così solo, ma era importante anche continuare a vincere. Queste sicuramente sono le partite che cambiano il campionato. Sono partite difficili ma alla fine l'importante è portare a casa i tre punti. Speriamo che possa continuare così la squadra dei Ranger. Abbiamo visto tante partite finora. Questa non è stata la vostra migliore partita? In effetti è vero, è vero, ma stiamo continuando sulla strada migliore. Altro non possiamo fare. 15 punti in altre tante partite comunque è la cosa migliore. Di nuovo auguri. Grazie mille.